Buongiorno dal TG2000, a tutti voi un cordiale ben ritrovati. Ecco i titoli delle principali notizie di questa edizione. Aumentano i contagi da Covid-19 in Italia, in vigore da oggi il nuovo DPCM per contrastare la diffusione del virus. Il nostro paese è diviso in tre aree di rischio, rossa, arancione e gialla, attesa per il decreto legge Ristori Bis. Prosegue ancora lo spoglio delle schede elettorali per le presidenziali negli Stati Uniti. Biden ha certo della vittoria, Trump denuncia brogli ed è deciso a portare la controversia legale sul voto fino alla Corte Suprema. L'FBI ha aperto un'indagine su un presunto attentato a Filadelfia. Si intitola Lezioni di volo e di atterraggio, il nuovo libro di Roberto Vecchioni, un viaggio letterario in 15 lezioni indirizzate ai suoi studenti ma anche a tutti i lettori. In primo piano quindi l'Italia alle prese con la nuova impennata di contagi e di morti per Covid-19. In vigore da oggi il DPCM che ha individuato tre aree di rischio. Solo misure graduali, ha affermato il commissario per l'emergenza Arcuri, evitano un lockdown generale. Il punto della situazione è con Letizia Davoli. Il primo giorno di lockdown parziale per il paese si apre con il carico sulle spalle di un nuovo record nella curva dei contagi. Ieri infatti i nuovi positivi al Covid-19 hanno superato quota 34.000, frutto di 219.000 tamponi. Nuovo picco anche dei morti, 445 contro i 337 del giorno precedente. In lieve salite e ricoveri si ordinari che in terapia intensiva arrivati, questi ultimi, a un totale di 2.391 posti occupati in tutta Italia sui quasi 7.000 disponibili. Dati che sono al centro di un durissimo scontro tra le regioni dichiarate zona rossa e il governo che ne ha disposto la chiusura. E i virologi che richiamano al continuo controllo e verifica dei numeri per delimitare al meglio le zone d'altissimo rischio, lasciando più libere all'interno delle stesse zone rosse quelle aree dove il Covid corre più lentamente. Ma il commissario Arcuri respinge le accuse, è stato messo in campo, ha detto un sistema di monitoraggio complesso e preciso che tiene conto di un virus che pur meno aggressivo di marzo si diffonde impetuoso, con rischi altissimi per i cittadini e l'intero sistema sanitario. È un sistema assai elaborato con due fondamentali finalità. Anticipa il rischio ed evita misure generalizzate. Insomma, evita fin quando è possibile il lockdown di tutto il Paese. È necessario dunque abbassare la curva trovando un compromesso tra salute ed economia. Proprio oggi è atteso il decreto ristoro per dare sollievo alle aziende in difficoltà. Un provvedimento però giudicato da più parti insufficiente a salvare il Paese dal collasso. E sull'emergenza coronavirus poco fa il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato alla Camera dei Deputati sottolineando che la situazione è grave, i numeri continuano a crescere, ma per questo la massima precauzione è la via obbligata della lotta contro la pandemia. Vale la pena ricordare le tre aree di rischio, Rossa, Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta, Arancione, Puglia e Sicilia, gialla, tutte le altre regioni. Andiamo proprio in una delle aree dove sono previste le misure più restrittive, la Lombardia, con Maurizio Dischino. Primo giorno di zona rossa per la Lombardia, mezzi pubblici meno affollati a Milano, ma lo erano già nei giorni scorsi. Per motivi di lavoro gli spostamenti sono consentiti, ma la gente evita treni, metro, tram e bus per arrivare a Milano. Comunque bisogna riorganizzarsi. Chiusi bar e ristoranti, asporto fino alle ore 22, nessuna restrizione per la consegna a domicilio. Chiusi i negozi, fatta eccezione per supermercati e beni alimentari di necessità, didattica a distanza per scuola secondaria di secondo grado, per seconda e terza media, chiuse le università. Non sono contrario alla zona rossa, ha dichiarato stamani Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, ma voglio vedere i dati degli ultimi dieci giorni. Non li ho visti e non li ho potuti esaminare. Il nuovo decreto dice fino al 3 dicembre, ma Fontana ha chiesto al governo l'interpretazione di questo termine. Solo successivamente, dopo almeno due settimane, sulla scorta dell'evoluzione della situazione, è possibile per i presidenti di regione chiedere delle misure di allentamento per determinati territori. Il dibattito politico si inasprisce mentre il coronavirus continua a contagiare. In Lombardia ieri 8.822 nuovi casi, più 1.000 rispetto al giorno precedente. Sempre ieri 3.654 nella provincia di Milano, quasi uguale a due giorni fa, mentre sono calati a Milano città. Ieri 1.367, cioè 359 in meno rispetto all'altro ieri. Solo al Pio albergo Trivulzio di Milano, 64 dipendenti positivi su 551 e 20 in attesa di referto. Ora invece ci spostiamo in una delle regioni inserite nella zona arancione. Beatrice Bossi è in diretta da Genova per darci tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Beatrice, ti ascoltiamo. Buongiorno, buongiorno. Genova, la Liguria oggi si è svegliata in zona gialla, ma il rischio che scivoli in zona rossa è sempre dietro l'angolo. Lo dicono i numeri purtroppo. Le terapie intensive Liguri sono messe tanto male, speggio stanno solo quelle di Lombardia e Piemonte. I ricoveri di media intensità invece hanno superato già la soglia critica indicata dall'Istituto Superiore di Sanità, quella del 37%. In Liguria siamo addirittura già arrivati al 66% di posti letto occupati. E poi per quanto riguarda l'incremento giornaliero di nuovi positivi, la Liguria anche ieri è rientrata tra le regioni con il maggior incremento. Questi i numeri, 1.208 nuovi positivi ieri nelle ultime 24 ore, 6.500 tamponi circa, 1.312 gli ospedalizzati, tra cui 76 in terapia intensiva e 29 i morti di Covid. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Continua a ripetere il governatore Giovanni Toti, che proprio ieri ha firmato l'ordinanza che ha recepito il DCPM. E a Genova il sindaco Bucci ha confermato infatti l'ordinanza di un nuovo coprifuoco che parte già alle 21. Da Genova è tutto. Salutiamo Beatrice, andiamo al sud. Situazione difficile anche in Sicilia, dove c'è preoccupazione per eventuali nuove restrizioni. Nicola Ferrante. Significa bloccare la vita di tutti, bloccare le attività economiche, significa impoverimento. Sicuramente i disagi sono tanti, perché evidentemente c'è stata una leggerezza da parte del governo centrale. Adesso monta la rabbia, ma anche la preoccupazione per la tenuta economica. I siciliani non ci stanno a ritrovarsi in zona arancione, o quantomeno non ne capiscono pienamente le ragioni. Il dato di fatto è che da stamattina, da Palermo a Catania, chiudono completamente bar e ristoranti, ma soprattutto confini regionali, eppure quelli fra comuni. Insomma, vietato spostarsi senza motivi. Misure drastiche in una regione che però stanno all'ultimo bollettino e al nono posto nella tabella delle regioni preceduta, cioè da altre sei gialle. E poi in Sicilia l'indice RT è sì superiore all'uno, ma inferiore al due. Questi gli ultimi numeri, 1.322 nuovi positivi, 25 morti, 1.304 ricoverati, 157 intubati. A far scattare la misura, dunque, sono stati gli altri indicatori, in particolare il nodo legato alla rete ospedaliera, con il capitolo terapie intensive in testa. Il nuovo piano prevede il raddoppio dei posti, cioè fino a 400, posti che però, ricordiamolo, saranno attivati solo a fine mese. E così per ora si chiude preventivamente, perché non ce ne sono abbastanza per i casi gravi. Su questo si infiamma la polemica politica con l'assessore regionale competente, che poco fa in conferenza stampa rispinge, date alla mano, l'interpretazione di una sanità impreparata. Perché si è detto, la Sicilia viene penalizzata in quanto non è nelle condizioni di ospitare i pazienti. Preoccupazione per la diffusione dei contagi nel mondo, se ne sono registrati finora 48 milioni e 600 mila, mentre le vittime sono salite ad oltre 1 milione e 200 mila. Allarme anche in Europa. Federico Plotti. Sono oltre 48 milioni i casi di coronavirus nel mondo dall'inizio della pandemia, con i decessi che sfiorano quota 1 milione e 200 mila. Numeri in costante aumento dagli Stati Uniti, dove ieri è stato record di nuovi contagi, più di 123 mila in sole 24 ore, all'Europa, in cui denuncia l'OMS è in corso una vera e propria esplosione delle infezioni da SARS-CoV-2. In Francia, il paese più colpito del vecchio continente, nonostante il lockdown scattato più di una settimana fa, si registra una nuova e preoccupante impennata dei contagi, circa 60 mila in un solo giorno. La situazione è particolarmente grave negli ospedali di tutto il paese, ormai al collasso, e dove viene ricoverato per Covid un paziente ogni 30 secondi. Sono quasi 20 mila, secondo l'ultimo bollettino, i nuovi contagi in Germania, altro paese in cui è scattato il lockdown, anche se più morbido rispetto a quello francese. L'Austria è stata dichiarata tutta zona rossa, mentre in Grecia, da domani, entreranno in vigore regole più rigide su chiusure e mobilità. Tremano anche Repubblica Ceca e Belgio, i paesi europei in cui l'incidenza dell'epidemia in rapporto alla popolazione è la più alta d'Europa. Intanto in Danimarca preoccupa una nuova mutazione del Covid riscontrata nei visoni, che si sarebbe già diffusa nell'uomo e potrebbe potenzialmente mettere a rischio anche l'efficacia del futuro vaccino. Per questo il primo ministro danese Fredriksen ha ordinato l'abbattimento di tutti gli animali allevati per la loro pelliccia nel paese tra i 15 e i 17 milioni, promettendo risarcimenti record a tutti gli allevatori. Sono stazionari le condizioni del presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, ricoverato in terapia intensiva per aver contratto il Covid-19 presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia. Un'intensa mobilitazione di preghiera sta accompagnando la sua degenza, ma anche la malattia di tutti i contagiati dal virus. Positivo al tampone anche l'arcivesco di Spoleto-Norcia, Monsignor Renato Boccardo. Il presole è asintomatico e si trova in quarantena presso la sua residenza spoletina. Cambiamo pagina. Andiamo a vedere cosa succede negli Stati Uniti dove prosegue lo spoglio delle schede elettorali per le presidenziali. Biden è certo della vittoria. Trump annuncia battaglia legale sul voto mentre si registrano disordini in varie aree del paese. Ci riferisce Fabio Bolzetta. Si schiude la porta dello studio vale per Joe Biden. Nel riconteggio delle schede in Georgia l'ex vicepresidente degli Stati Uniti ha sorpassato Donald Trump. È infatti su cinque stati chiave che si concentra il risultato delle presidenziali USA. La conta finale. Il candidato democratico Biden ha conquistato sin ad ora 253 grandi elettori 213 invece per il presidente in carica Donald Trump. Sul filo la corsa in Pennsylvania con Trump in vantaggio con un margine dello 0,3% e in Georgia, Arizona e North Carolina lo stacco tra i due rivali è tra lo 0,9 e l'1,6%. Per raggiungere 270 grandi elettori noto come Magic Number per assicurarsi la presidenza Biden deve conquistare due stati tra Arizona, North Carolina, Nevada e Georgia o vincere in Pennsylvania. Ma per la notte alcune contee della Georgia hanno smesso di conteggiare le schede. Non ho il dubbio che vincerò ha affermato sicuro Biden. Trump su Twitter ripete che contando i voti legali vincerebbe facilmente i minacci del ricorso alla Corte Suprema. E intanto, secondo l'emittente Fox News, l'FBI sta indagando su un presunto attacco contro il Convention Center di Filadelfia dove si sta svolgendo la conta dei voti per le elezioni presidenziali USA. La conta continua. E di almeno 63 morti l'ultimo bilancio del passaggio sull'America centrale dell'uragano ETA ora declassato a depressione tropicale. A causa delle frane verificate sia nel nord del Guatemala hanno perso la vita oltre 50 persone. ETA oggi si rafforzerà sul Mar dei Caraibi e per poi dirigersi verso Cuba, Giamaica e Florida. In Italia un'autocisterna con combustibile andata a fuoco immattinata sulla superstrada che collega Firenze a Livorno nel tratto compreso tra Empoli e San Miniato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Come vedete dalle immagini una densa colonna di fumo nera è visibile a distanza. La circolazione è bloccata non ci sono feriti ma ci sono stati disagi anche per il traffico ferroviario. Ed ora la pagina culturale si intitola Lezioni di volo e di atterraggio il nuovo libro del professore e cantautore Roberto Vecchioni. Un viaggio letterario in 15 lezioni indirizzate ai suoi studenti ma anche a tutti i lettori disposti a scoprire man mano la meta e a perdersi in traiettoria. Mai scontati occorre volare e poi atterrare tutti insieme. Sentiamo Pierluigi Vito. Si partiva dal mito o da Leopardi e si finiva a parlare di stelle e di atomi o viceversa. Erano quelle che Roberto Vecchioni chiama giornate di follia quando professore di italiano in un liceo milanese a fine anni Ottanta portava i suoi alunni a fare lezioni fuori dalla scuola. Avevamo i ragazzi questa abitudine di uscire il lunedì sempre il lunedì era quello il giorno lasciare l'aula e andare in giro andare nei parchi andare nelle strade andare anche nell'osteria anche in posti stranissimi l'abbiamo fatto in cliniche e a far che? A fare una lezione aperta che non potevamo manco chiamare lezione era una libera associazione di cultura cultura in sé non è sapere e questo continuo a cercare 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 è finito sapere un punto d'arrivo anche troppo fermo e poi non si sa mai tutto è meglio cercare cercare sempre. Quelle giornate ora rivivono in lezioni di volo e di atterraggio un libro sospeso tra narrativa memorialistica e pedagogia per portare i ragazzi di ieri e di oggi ad assaporare un modo creativo di fare scuola specie in tempi difficili come questi. Perché la scuola non è lo schermo la scuola non è imparare da un insegnante attraverso uno schermo la scuola è imparare con gli altri è godere e anche soffrire con gli altri è comunque partecipare una partecipazione continua totale alla vita perché la scuola è vita non è solo insegnamenti è un partecipare alla vita e questo oggi non è dato e io sto malissimo il TG2000 termina qui prossime edizioni alle 18.30 non perdetevi ora le previsioni del tempo a cura dell'aeronautica militare vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un lieto proseguimento di giornata arrivederci a cura